Ciao, sono Federico Cesari e nella serie interpreto Daniele, io sono Vodini Peruso e interpreto Nina, io sono Ricky Memphis e interpreto Pino e oggi vi introduciamo al mondo degli ASMR, una roba che fino ad oggi non sapevamo manco che fosse, però tranquilli sappiamo cosa fare. Lasciamoci andare, andiamo. Daniele, prima di entrare in TSO aveva una valigetta così, perché vendeva condizionatori, bellissimo, l'ho sempre vista ai businessman. Pino, il mio personaggio, piega lenzuola come queste, perché fa l'infermiere. Sentite, questa è una costante della mia vita, università, liceo, pagine, lacrime, eh? Che bello, che il mio personaggio è un po' ETA, io un po' meno, rilassante. Adesso vi verso un po' di tè caldo, perché fuori inizia a fare freddo. Ehi fu, io non la so usare, ma va bene, siccome, immobile. Non me la ricordo più. Questo è il suono più figlio in assoluto, è quello che mi piace di più anche. Sembrano tipo dei sassolini nell'acqua. Anche se questo top è un po' più lo stile del mio personaggio, divina, io stiamo a se non ne posso mettere troppo sprelugicose. Queste sono lenzuola 100% cotone egiziano. Forse dovrei essere più delicata, però, insomma... Questo è il suono del ruscello, dell'acqua. Vi state rilassando? E sbrigatevi perché se no mi appioco io. Nella vita c'è un rapporto pessimo col telefono e con la tecnologia, mi repelle. Però questo suono qua comunque è incalzante. Morbidissime. Una nuvola. E oggi potrete averle a un prezzo speciale, solo per... Oddio, scusate. Scusate. Ma è partita la delle vendita. Era più bella la spazzola. Beh, ragazzi. Stupendo. C'è ancora qualcuno sveglio? Vi siete rilassati? Perché noi ci siamo rilassati. Una cifra proprio. Sì. 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 Sì.